Ciao a tutti ragazzi da Zebra, che cazzo, che cazzo, tre punti importanti ma una partita completamente diversa rispetto alla Coppa Italia Ve l'avevo già detto, il ritorno non sarà la stessa salernitana, avremo molte più, ma molte difficoltà a cercare di portare il risultato a casa contro questa salernitana E così è stato, certo bisogna anche ammetterlo, mancava chiesa, c'erano degli assenti anche importanti dalla parte della Juventus ma anche dall'altra parte Comunque c'erano delle assenze, però ragazzi ora voglio fare un discorso anche diverso perché in molti casi noi diamo sempre colpo a Massimiliano Allegri E' vero questa squadra continua a non esprimere un calcio idilliaco, quindi ormai io mi sono anche stancato e non voglio più ripeterlo Che questo allenatore, che comunque a me continua a non piacere, ma bisogna anche essere onesti Onesti in che cosa ragazzi? Oggi effettivamente la colpa è stata di un allenatore che non ha saputo impostare, organizzare una partita nei confronti della salernitana? Non credo raga, perché un allenatore che in Coppa Italia comunque è una squadra che vince un 6 a 1 Non credo che è così matto da non poter organizzare una gara come quella di oggi, non credo Oggi è mancato comunque l'inventiva, la forza, la tecnica, la qualità di chiesa Perché comunque noi della Juventus, se non c'è Vlaovic chiesa, quelli sono i giocatori che possono effettivamente fare la differenza Ildiz oggi non ha giocato benissimo ma neanche male Ci sono state quelle ammunizioni che lui ha cercato con la sua giocata, col suo estro Quindi il ragazzo che comunque è giovane, ve l'ho già detto, ci può aspettare momenti positivi e negativi Ma oggi non voglio dire che ho giocato male, ha servito la squadra, è stato servito male e poco Bisogna essere sinceri, questa è la verità Ma dove voglio esprimermi di più è ragazzi, oggi ai giocatori, non all'allenatore Giocatori, vi è mancata il coraggio, il coraggio di cercare la giocata Il coraggio di far girare quel pallone più velocemente Sì, pioggia, campo abbagnato, più difficile da controllare Ci sono stati dei fattori che effettivamente hanno messo in difficoltà i giocatori della Juventus Ci sono stati messi in difficoltà anche da questi fattori Ma io credo che oggi hanno avuto paura Paura perché ragazzi siamo passati in dieci Sono passati in dieci e noi in superità numerica Comunque quella superità numerica non l'abbiamo fatta vedere Non c'è stata quella superità numerica Perché la Salernitana anche in superità numerica ha trovato le occasioni In area di rigore è venuta e ci ha tirato in porta Questa è colpa dell'allenatore? No ragazzi, questa volta io vi dico di no Kostic, prendiamo nel primo tempo Kostic Ragazzi, ve l'ho già detto una marea di volte Io Kostic lo colloco, lo metto a paragone di Alexandro De Sciglio È un bidone, è un bidone Kostic Ve l'ho detto e ve lo ripeterò sempre È arrivato con pompa magna dicendo che dovrà fare una marea di assist Ma così non è stato Così non è stato Quindi per me Kostic zero Zero Il resto della squadra ragazzi, chi più chi meno Nulla di che Locatelli lì al centrocampo La mancanza comunque si è sentita Ma non perché chissà chi Locatelli Ma come siamo messi al centrocampo Comunque non abbiamo uomini a sufficienza Già una mancanza come quella di Locatelli si sente tantissimo Quindi abbiamo avuto anche problemi lì al centrocampo nel recupero a palla Nell'aggressività Comunque Locatelli quello lo sa fare Essere aggressivo sul partotolo di palla avversaria Quindi un pizzico di, come posso dire Sì, bisogna anche dirgli al Massimi Allegri Che è sfortunato da questo lato, da questo punto di vista Comunque gli mancano gli uomini Mancano gli uomini alla Juventus Ma con la caratterità Vlaovic se viene servito come deve essere servito Vlaovic è micidiale 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 Ragazzuoli, come sempre vi invito a iscrivervi al canale Lasciate un bel like Mi raccomando sempre Forza Juve E commentate voi che partita avete visto A chi questa sera attribuite la colpa principalmente Fatemi sapere nei commenti Ciao raga